Ognuno ha i suoi motivi per piangere, a me è dispiaciuto perché meritavamo per il gruppo che siamo, per quello che abbiamo lavorato, per ciò che abbiamo risvegliato nei cuori e nell'animo della gente, per i tifosi che erano qua, quelli che erano in Italia, per il fatto che tre rigori su cinque sbagliati e degli altri non sono bastati per vincere, che è una cosa veramente clamorosa, è qualcosa che non si può spiegare, è veramente dura, però ne abbiamo passate di peggio o no? Perché questo è stato qualcosa di incredibilmente scioccante, però andiamo avanti perché ci sono altri doveri, altre responsabilità.